No, no, l'hanno cambiato, non ero capito. Allora, chi ha fatto questo cartello che ho? Io non vi faccio pagare i tasti, quattro voto danno. Mannaggia a Gesù Cristo, porco Dio. E che spaccim, mannaggia a Marolonguazzo, fama niente, mannaggia a Gesù Cristo. E porco Dio. Vado a fare sempre io a sto mago, pasto spaccim e Luigi. E che spaccim.